salva un amico ben ritrovati a questo nuovo appuntamento siamo al canile comunale di merate gestito dall'empa sezione di merate al mio fianco alessio e lubia qual è la sua storia allora lubia è una giovane adulta in realtà un adolescente a circa un annetto è entrata nel nostro canile come ospite da poche settimane da subito ha conquistato tutti sia per il sospetto sia per la tenerezza che ha dimostrato infatti è un cane molto dolce molto sensibile ma nasconde comunque un animo da guardianone noi abbiamo ipotizzato un gene mare in mano all'interno quello che infatti cerchiamo per lei è comunque una adozione da parte di una famiglia consapevole di della razza di come lei quindi capace sia di darle molto amore e momenti di coccole di tenerezza ma allo stesso tempo delle regole che l'aiutino nella quotidianità a non gestire tutto lei ma sentirsi parte di un nucleo familiare quindi non una famiglia la prima esperienza con un cane possiamo dire poi oppure comunque sì una famiglia anche prima esperienza ma che abbia intenzione e voglia di farsi seguire in magari in un percorso per aiutare a capirla e conoscerla meglio ecco qui sta seguendo un percorso all'interno del canile sì esatto noi educatori io faccio parte di un gruppo di cinque educatori e seguiamo appunto tutte queste dinamiche che già dai primi momenti in cui entrano a far parte con noi a far parte del nostro gruppo cerchiamo di conoscerli subito al meglio e di dare delle indicazioni anche per le famiglie che vengono in cerca e che magari si fanno un attimino si basano sull'aspetto esteriore ecco lei è brava anche andare al guinzaglio sì allora sono le prime volte quindi questo comunque ci fa capire che non ha un passato all'interno di una famiglia ma probabilmente ravagante sul territorio però comunque sta già dando buone risposte sicuramente tutti gli stimoli all'esterno del canile sono una novità per lei e ha bisogno quindi essere accompagnata conoscerli qual è il suo rapporto con gli altri animali allora è molto buono ha un'ottima comunicazione con gli intraspecifica con i suoi simili e molto comunicativa quindi anche come adozione in presenza di già di un altro cane non ci sono particolari problemi ovviamente vanno visti ecco è possibile che la famiglia che vuole adottarla anche un bambino magari comunque il suo rapporto anche con i più piccoli può essere buono sì sicuramente sì allora sono comunque aspetti che purtroppo in canile non riusciamo a vedere ad analizzare ma in caso di una famiglia non la escludiamo a priori anzi qual è il percorso che una famiglia che vuole adottare un cane deve seguire qui allora lei comunque ha dimostrato un minimo di diffidenza soprattutto verso gli sconosciuti mascherato da un po una ricerca di coccole di contatto quindi quello che noi proponiamo per lei è di fare un percorso conoscitivo dove si viene e si porta in passeggiata seguiti appunto da noi da uno degli educatori per permettere di stringere un minimo di relazione e dopo di che viene accompagnata comunque in casa bene quindi speriamo che l'ubbia trovi presso una famiglia che la possa accogliere per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile comunale di merate gestito dalla sezione empa di merate al numero 320 67 37 216 oppure inviare un'email a merate at empa.org